Come abbiamo discusso anche nell'incontro questa mattina con il candidato Presidente Juncker, ci sono almeno due temi che possono rilanciare l'economia europea e aiutare a creare posti di lavoro. Il primo è quello dell'energia, un'Unione Europea dell'Energia che consenta di approvvigionare gli stati a costi inferiori e i cittadini a costi inferiori, ma anche di connettere le reti energetiche europee. Il secondo è invece quello relativo all'agenda digitale, l'agenda digitale se di nuovo implementata con grandi investimenti a livello europeo che consentono davvero di avere la banda larga ultraveloce in Europa e poi da investimenti locali e nazionali, permette di creare migliaia, centinaia e migliaia di posti di lavoro e quindi, insieme naturalmente ad altre cose, rilanciare la crescita e l'occupazione in Europa. Grazie Grazie